Questo pomeriggio Papa Francesco ha partecipato all'Università Urbagnana all'incontro con i giovani di Scolas Occurrentes. Insieme al Pontefice c'era un'altra presenza straordinaria. All'evento è partecipato infatti anche Bono Vox, leader degli U2. I giovani hanno accolto Francesco con uno spettacolo di canti e recite ispirati alla tutela dell'ambiente. Serve poesia e coraggio per la cura della casa comune. Bisogna difendere l'armonia della creazione e le donne sanno di armonia più di quanto sappiamo noi uomini. Ha sottolineato il Pontefice.